Amico, eccola! Come l'avevo lasciata! Che cazzo di baratta! Eh, non so, ma l'importante è che ci sia un letto, poi è tutto a posto e anche un tetto. Poi per l'altro, per il resto, dobbiamo restrutturarlo. Ah sì, va bene. Pensiamo peggio. Vieni qua, dobbiamo scavalcare, un ponte. Tranquillo. Attentami qua. Eh, devo far riparare questo pezzo e devo far sparare tutta l'acqua e l'acqua luda. Adesso viene. Eh, è da un po' che non ci vengono qua. Quando scendi ti pensavo che tu sei veramente una bella a tutti i posti. Da un po' che non è. Vieni. Fa tu? Sì, sì, vieni qui. Allora, e dunque, dopo ti faccio vedere qual è la tua camera da letto, ok? Prima però, se vuoi, se vuoi accomodarti qua un attimo, anzi, andiamo subito a vederla. Bella villona comunque. Eh sì, è un po' da ristrutturare, non ci vengo qua da un bel po' di anno. Ah, guarda, neanche troppo, direi l'entrata, dopo il resto si tiene bene. Ma infatti, ma dovrò ristrutturarla per bene poi. La metterò in vendita, cosa? Allora, è un po' di anni che non ci vengono, non si nota, dai. Eh, direi bene che non si nota. Giusto. Ah, attento qua, ci sono varie zone paludose, perché il tetto deve ancora essere ristrutturato, quindi stai attento. Ok, la stanza... Come cazzo hai fatto a farci una paura qua dentro? Eh, ma il tetto cede, il tetto cede a volte. Eh sì, non è che cede. Dunque, la tostanza è questa, dunque, attento, cioè, qua dentro c'è il letto, come vedi non è messa molto bene, ma l'importante è che qui ci sia il letto. Poi, dunque, e andiamo... ci sono varie stanze qua, puoi usare quella che ti piace di più, poi. Sì, abbiamo varietà. Sì, abbiamo varietà. E dunque, come ti ho fatto vedere qua, è tutto il panorama. E se anche questo è tutto da ristrutturare, non prendeva subito come fosse una limona, 5 stelle. Comunque, qua ci sono dei pezzi un po' caduti dal soffitto, quindi... A te. Vieni, vieni. Tu cazzo. Tu cazzo. Lo cazzo, lo cazzo, lo cazzo. Attenzione qua. No. Che posso vedere il cazzo che c'è in casa? Cazzo. Tu cazzo. Grazie a tutti. 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 Dietro, c'è sta dietro. Vieni, vieni. Mi serve il tuo aiuto. Grazie a tutti. Ah, cazzo, non ti ci può. Da questa parte... Cazzo, cazzo. No, 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 no. No, no, no mi constrincas a sparare. No mi constrincas a sparare. No, 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 no.